La fonte meravigliosa, un'altra delle straordinarie perle cui ci ha abituato Alberto Luri. Questo romanzo, così emozionante, è un autentico inno al delicato e affascinante passaggio in cui il tempo e lo spazio si mescolano e diventano una cosa sola, da conoscere e attraversare. La fonte meravigliosa è un racconto travolgente, con un intreccio di una bellezza unica, che pur trattando qualche argomento particolarmente non semplice, come la meccanica quantistica, grazie al semplice linguaggio utilizzato consente una lettura tutta ad un fiato che lascia sempre teso quel piacevole gusto del voler sapere, conoscere, approfondire, fino all'ultima riga, senza scampo. Il fascino e la cura di ogni singolo dettaglio portano a viaggiare in modo naturale l'anima di chi legge, catapultandola nelle stesse dimensioni in cui si ritrovano i personaggi del racconto, facendole perdere letteralmente la cognizione terrena del tempo. L'acqua, si sa, è uno dei beni più preziosi. Il libro induce a conseguenti e naturali riflessioni che portano ad un senso di maggior tutela e maggiore appartenenza viscerale a questo elemento di inestimabile valore. Se si vuole provare a barcare così da vicino la soglia dello spazio-tempo e sperimentare cosa voglia dire far viaggiare l'anima tra due diverse dimensioni, rinunciare a una copia di questo libro sarebbe un vero peccato. Se decidete di intraprendere questo viaggio, non vedetelo come un semplice sogno nel cassetto, ma tenetelo bene in vista sulla mensola, poi capirete da soli il perché. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.